Aveva posto le basi per una fiorente attività di spaccio e la droga era destinata soprattutto a giovani e giovanissimi della zona. Il pusher finito nei guai a un marocchino di 43 anni, regolare sul territorio nazionale di Morante Affano. L'uomo è stato arrestato dagli agenti del commissariato dopo essere stato trovato in possesso di un panito di hashish, dal quale avrebbe potuto ricavare almeno 400 dosi con un ricavo di circa 4.000 euro. I suoi movimenti infatti non sono passati inosservati ai poliziotti che durante l'ultima settimana hanno intensificato i servizi di controllo e di vigilanza in città con agenti sia in divisa che in borghese. E nella zona sud di Viale Adriatico hanno notato che il 43enne all'apparenza nordafricano avvicinava i ragazzi anche minorenni. Poi nel tardo pomeriggio si spostava verso la spiaggia mentre nelle ore serali si muoveva con le stesse modalità nella zona del Luna Park. Nel pomeriggio di venerdì scorso gli agenti, ritenendo che i movimenti sospetti potessero ricondursi ad un traffico di stupefacenti in atto, hanno deciso di procedere ad un controllo dello straniero. Alla vista degli agenti il marrucchino ha tentato la fuga a piedi ma in breve tempo è stato raggiunto e bloccato. L'uomo già noto alle forze dell'ordine è stato arrestato per detenzione di stupefacente a fini di spaccio, condotto in giudizio per direttissima dinanzi al Tribunale di Pesaro, è stato condannato a dieci mesi di detenzione al pagamento di una multa di duemila euro.